Ready? Ok. Ready? Sì, bhai. Ok. Allora, cosa ne vediamo? Il semaforo in figura indica una corsia riservata ai motocicli. La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura si è accesa durante la marcia e in genere abbinata a un segnale acustico in funzione. La patenta M consente a chi ha compiuto 14 anni di condurre ciclomotori in tutti i paesi dell'Unione Europea. Falso. Falso. E che ne patenta M due volte se ha avuto pure i paesi dell'Unione Europea. E' bietato il sorpasso se nevica. Falso. Falso, bene. Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atta a evitare incidenti. Vero. Ok. Cautele. Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di una pista ciclabile. Vero. Ok. Inizio di? Una pista ciclabile? No. No. L'altra persona ciclabile. L'altra persona ciclabile. L'altra persona ciclabile. L'altra cosa, sì. Pistona. 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 Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia a destra una strada di minore importanza. Pistona. 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 Ossenti. Pistona. Pelzio. たい. Achatrodjika. Pistona. Misrzu. Losi. Losi. Laini. Losi. 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 Il carico deve essere segnalato, di giorno, con un panno rosso se sporge dalla parte posteriore. Il carico deve essere segnalato, di giorno, con un panno rosso che sporge dalla parte posteriore. Sì, è falso, è falso, è un panno rosso, di giorno. Ok, dove va dopo? Allora, il pò re, l'indica non? Sì, beh, parvo. Tutto le pò in corso sul vostro, è ora che non si prenderemo la panno di una panno dalla parte miapasta, quindi si vabbè usitamente un primo pent Idaho. È ok, è facile, ma sì. Allora, uno che risulta più facile, ma non la panni sono mai stopped, non si preventa. No, 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 no. Un'obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico. L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico. Un'obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e o cose che si trovano in aree pubblico. Un'obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone. Il segnale raffigurato indica a 150 metri l'ingresso di un ospedale. Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso. Un'obbligatoria RCA copre. Un'obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e o cose che si trovano in aree pubbliche o treo. Un'obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone. Un'obbligatoria RCA copre che mi accade da personeaid. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B deve attendere il transito del veicolo P. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore a scoppio, bisogna sostituire la marmitta catalitica quando la stessa è deteriorata o esausta. Il conducente deve riguardare il transito del veicolo P. Il pannello integrativo raffigurato indica di prestare attenzione a macchine sgombraneve sulla strada. La corsia di emergenza, corsia A, è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli. La corsia di emergenza, corsia A, è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito degli autoveicoli. La corsia di emergenza, corsia A, è vietata al transito dei motocicli. La corsia di emergenza, corsia A, è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli. Il conducente di autoveicolo deve rispettare le norme della circolazione ma non è tenuto a prevedere le possibili imprudenze del ciclomotorista che lo affianca sulla strada. La corsia di emergenza, corsia A, è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli. La corsia di emergenza, corsia A, è vietata al transito dei motocicli. Il segnale raffigurato preavvisa un attraversamento ferroviario senza barriere. Il segnale raffigurato è relativo al rimorchio ma non alla motrice. L'assunzione di alcol facilita la guida perché fa aumentare la capacità di concentrazione. Fa aumentare la capacità. La capacità di concentrazione. La capacità di concentrazione. Si, questo è un'acquillante. Si, la capacità di concentrazione è realizzata. Sì Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di arresto a un posto di blocco istituito dagli organi di polizia Spero No Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio. Il freno di servizio è vero. Sì, è vero. Il freno di servizio è vero. Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore a 1, purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio. Sulla distanza di cani anche in numero superiore a 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 13, 12, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 20, 19, 15, 16, 29, 19, 29. Sono rilassati, ma non sono rilassati, ma non sono rilassati. La roba. La roba. La roba è rilassati. Quando ci sono rilassati, la roba di un'escalante, si non si rilassati, non si rilassati, non si rilassati, non si rilassati. Non si rilassati, no. Si, questo è un'escalante, perché i nostri amici sono molto interessati. Il coefficiente di aderenza basso rende pericolose le frenate brusche. La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di nevicata in atto. La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in atto. Mala, male di questo senso buono. Il coefficiente di ammorto è di almeno 10 metri in atto. e non segnalate causa probabile gli incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di strettoie non segnalate se un ferito della strada è in stato di incoscienza può essere mosso solo se si è certi che non abbia traumi alla colonna vertebrale. a a a a a a non No no no, che bandsana? Quale Alla commenta Tu conosci la mia figlia, qual è la tua figlia? Nelle tua figlia di colomb ci sono. E questa figlia di colomb. E questa figlia di colomb è? Voi. Voi stai con te. Voi ti è molto serio. Voi? Voi non c'è colomb? 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 Voi essere non c'è colomb? No, 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 no.